Ben ritrovati in questo nuovo video, oggi vediamo una moneta della Repubblica della Somalia, vediamo una moneta d'argento, per l'esatezza un'oncia d'argento, poi c'è una moneta che fa parte delle monete da investimento e collezione, il tema della moneta è l'elefante africano, questa moneta ha cominciato la sua storia nel 2004, ogni anno il disegno viene rinnovato, poi c'è una lana con un disegno diverso, come vi dicevo peso 31,10 grammi, un'oncia d'argento puro, diametro 40 mm, viene coniata in fondo specchio e fior di conio, per quanto riguarda questa moneta vediamo quella del 2021, il conio è diviso dalla stema della Repubblica della Somalia che si trova in centro della moneta, il valore è 100 cilini in basso, adesso vediamo il retro della moneta dove troviamo nel centro raffigurato un elefante, per quanto riguarda la scheda elefante lo trovate in questa posizione qui, per quanto riguarda invece, importante, un'oncia d'argento 999 millesimi, lo trovate scritto in basso a destra, molto molto grande, la moneta viene coniata, attenzione, dalla zecca del monaco di Bavira, perciò in Germania, non nella Repubblica della Somalia, per quanto riguarda invece la tiratura di 100.000 pezzi, fate attenzione a questa cosa, sono molto molto poche, appena esce il costo della moneta il prezzo è di 27-30 euro, dipende poi anche dal prezzo dell'argento, per quanto riguarda questa moneta è una moneta molto molto ricercata ai collezionisti, perché poi anche questa negli anni aumenta di valore. Niente, per oggi è tutto, io vi ringrazio e noi ci teniamo aggiornati per l'uscita del 2022, ciao e grazie a tutti, vi invito sempre a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per nuovi video. Ciao e grazie a tutti, vi invito sempre a iscrivervi al canale e attivare la campanella per nuovi video.